Belluscio Assicurazioni Buonasera, bentornati a Rigorosamente Calcio Dunque Vicenza torna alla vittoria C'è la prima scintilla Visto che l'aveva chiamata Di mister Thomassen E quindi c'è da parlare di questa partita Ma si gioca già giovedì Perché la partita con la Pergolettese è stata anticipata Perché poi bisogna preparare la finale Della Coppa Italia Con la Juve Next Gen di martedì E poi parliamo anche Della partita della storia Ci tocca sempre guardare al passato Se vogliamo sorridere ed essere un po' felici Con Vicenza-Celsi Con Pasquale Luiso Che interverrà rigorosamente Calcio, il Toro di Sora Sentiremo Patron Renzo Rosso Che ha parlato oggi ai nostri microfoni Ha parlato anche dell'obiettivo Serie B E ha parlato dei tifosi E poi ci rivediamo i gol di Dalmonte Il gioiellino che ieri ha segnato Ha fatto fare alla sua Ginevra in arrivo Il primo gol bianco-rosso E tanto, tanto altro Allora, via con gli ospiti Vado a salutare, a ringraziare Di essere tornati tutti e quattro Vecchie, piacevoli conoscenze di rigorosamente calcio A cominciare da Massimo Briaschi Ciao Massimo Ciao Andrea, buonasera Bentornato Claudio Pasqualin Buonasera, grazie Grazie, grazie anche a Dimitri Canello Il collega di Triveneto Gol Ciao Dimitri Ciao Andrea, buonasera E grazie a Antonio Di Lorenzo Ciao Antonio Grazie Andrea, un saluto a tutti Grazie a tutti voi E vado a dare la parola a Anna Trevisan Ciao Anna Buonasera Andrea E buonasera a tutti voi da casa Questa sera, mi raccomando Non concentriamoci solamente sul bicchiere Mezzo vuoto Ma tentiamo di essere un pochino più positivi Anche noi E quindi, sì, a tutti i commenti Anche critici, comunque E costruttivi Ma anche a quelli, insomma, più positivi Quindi 3357716200 Aspetto tutti i vostri messaggi Tutte le vostre domande Sai che poi mi segnali i trend topic Cioè mi dici se la parola che ricorre più spesso È Thomassen Rosso Finale Accetto questa sfida Cosa potrebbe esserci? Playoff Difensore Difesa Difesa Esatto Poi mi fai la classifica Va bene Vado dall'altra quota giovane dello studio Giovanni Mercaro Ciao Giovanni Ciao, buonasera a tutti gli ospiti Io mi sdoppio questa sera Perché sono due i posticipi Quello di Serie C è all'intervallo Appena finito 0-0 al Città di Meda Renate contro Lecco Per le posizioni playoff Lecco che vuole accorciare Rimanendo quarto Ma ha due punti Dalla Pro Sesto E uno dal Pordenone Mentre è Renate Che vuole tornare sotto al Vicenza Per quanto riguarda invece la Serie A Il Mappei Stadium 0-0 Tra Sassuolo e Torino Siamo alla mezz'ora Ma armamia traversa Clamorosa del Toro Proprio In questo istante Aveva fermato il gioco L'arbitro Non cambia Adesso lo scopriamo C'è il capitano adesso solo a terra Torino che è avanti di uno In classifica Quindi Entrambe salve Entrambe che possono Guardare avanti Dunque La prima scintilla Di Mr. Thomassen La vittoria Massimo Ieri Io personalmente ho visto Alcune cose interessanti Di nuove Tu al di là della vittoria Hai colto qualche segnale buono? Il segnale è più che altro Dal punto di vista Psicologico Secondo me Di testa La squadra Messa in campo Bene Secondo me Con un filtro Centrocampo Importante Che è stato quello Di Greco E di Zonta Di Zonta E poi insomma Vicenza che conosciamo Di qualità Due grazie Grandi gol Secondo me Perché non era facile Neanche il primo Anche se sembra Costruito Anche molto bene Con degli errori Incredibili Secondo me Da parte Della difesa Del Trento Su tutti e due I gol Perché sono rimasti Schiacciati In mezzo all'area Senza andare A pressare I giocatori Più pericolosi Che poi Fatalità Hanno fatto gol Però insomma Prendiamo per buono Il risultato Siamo lì Aggrappati Claudio Prendiamo per buono Che non abbiamo preso gol Non abbiamo preso gol Abbiamo giocato In maniera tranquilla Serena Abbiamo fatto Le cose semplici Ecco Io credo Che la caratteristica Della partita Del Vicenza È di averla fatta All'insegna Della semplicità Con i giocatori giusti Al loro posto Con un centrocampo Di lottatori Che ha fatto La sua parte Il 3-2 Il 4-2-3-1 Iniziale Assomigliava A volte Spesso A un 4-3-3 Ma al di là Delle disquisizioni Tattiche È proprio Un Vicenza Che ha fatto Le cose semplici E ha giocato Una partita Anche in un'atmosfera Devo dire Finalmente Serena Perché ormai Credo che tutti Dobbiamo Lo dico subito Almeno questo È il mio punto di vista Cercare di essere Positivi Nei giudizi Remare tutti Dalla stessa parte Perché per quanto Ridotte E tutte legate Alla conquista Della Coppa Le Molte di loro Meglio Legate alla conquista Della Coppa Le chance Di andare in B Ci sono Una lotteria Ma una Alla fine Vince E va su È una Una delle Principali Candidate Comunque Per la rosa Che ha Non può Che essere Il Vicenza Dimitri Secondo te La Nerossi È già Nell'ottica Playoff Ma è un Equilibrio Difficile Quello Da cercare In queste Ultime giornate Perché devi Trovare Da un lato Il fatto Di rimanere Aggrappato Al campionato A livello Di testa Quindi non Mollare Come si è visto Secondo me Con l'Arzignano In cui ho visto Una squadra Che mentalmente Non c'era E allo stesso tempo Devi andare In ottica Playoff Perché il primo posto È andato Devi arrivare Il prima Il più avanti Possibile E anche il secondo E anche il terzo Siamo lì E quindi devi arrivare Il più in alto possibile C'è la Coppa Che ovviamente Diventa l'obiettivo principale In questo momento E devo dire Mi sono rivisto La partita stamattina Perché ieri Ovviamente Era da un'altra Parte Non ho potuto Vederla Ho visto Concordo Con Massimo Ho visto un buon Vicenza Ho visto un brutto Trento Devo dire la verità Che mi ha anche preoccupato In ottica Trento Perché Era una squadra Che fino a qualche settimana fa Giocava veramente Un bel calcio Era solida Compatta Sembrava veramente In ascesa Era anche la squadra Che nel giorno di ritorno Aveva fatto più punti Esatto E poi si è inceppata Ho visto degli errori Difensivi Come ha sottolineato Giustamente Massimo Molto Molto evidenti E Il Vicenza ha giocato Come doveva giocare Con le sue caratteristiche Ed ha sfruttato Al meglio Quelle che sono Le sue tante qualità Che per adesso Abbiamo visto Espresse solo in parte Abbiamo visto cosa vuol dire Avere stoppa o no Perché l'azione era uguale A quella del primo gol Solo che stoppa L'ha messa perfetta Per Bejic Il Trento L'ha buttata via Questa azione Antonio Vicenza Una piazza Che si deprime facilmente Altrettanto facilmente Se imbrocchiamo Un paio di risultati Possiamo provare A riaccendere Un po' di entusiasmo Per la corsa playoff Ma Vicenza È una città Piena di entusiasmi E che magari Non lo dà molto a vedere Per cui Credo che Anche il pubblico Sia motivato A dare una mano Alla squadra Facendo le sue cose Abbiamo parlato Di semplicità Di certezze E anche Di capacità Di sfruttare I momenti Il pubblico Risponderà Senti Giovi Io ieri Tra Il fatto Che non Abbiamo Subito Gol Finalmente Si è andata In una calmata Non abbiamo Beccato cartellini Gialli Ho apprezzato Tanto Il raziocinio Nella gestione Della gara Finalmente Senza grasse Frenesie Capire i momenti Portare in porto Il primo tempo In vantaggio Andare a colpire Quando c'era da colpire E portare il risultato Finalmente Al novantesimo Senza rischio Si ma mi leggo Al discorso di Dimitri Penso che tutto Sia stato agevolato Da un Trento Veramente brutto Molto diverso Anche dalla partita Precedente Erano Già tre gare Che non segnava Quindi altri 90 minuti Anche contro Vicenza Con qualche giocatore Fuori ruolo Che hanno permesso Poi al Vicenza Di creare Quelle occasioni Che hanno portato Quindi dice Serve una controprova Si serve una controprova È la classica rondine Che non fa ancora primavera Voglio vederli giovedì Perché la pergolettese Sta bene Ha vinto Era caduta Dopo otto risultati utili Consecutivi Il Trento Sinceramente Mi è piaciuto Veramente poco E non ci ha messo nulla Il Vicenza Per far sembrare il Trento Si però paradossalmente Mi è piaciuta Di più la partita Contro la Triestina Ho visto più garra In quella sfida Ho visto un impatto migliore Ieri abbiamo fatto il nostro Abbiamo giocato Ho il dubbio Che i due e mezzo al campo Se Greco È quello che si vede In fase un po' calante Si faccia un po' fatica Nonostante Penso la miglior prestazione Dell'anno Di Zonta Adesso giochiamo Da qui alla fine Stagione Solo con squadre Che giocano Col 3-5-2 Quindi con tre In mezzo al campo Stare solo in due Può diventare Un attimo complicato Le ultime tre Sono pergolettese Pordenone E Piacenza E poi c'è ovviamente E anche la Juventus Che gioca Sostanzialmente Col 3-5-2 Sono moduli diversi Atteggiamenti diversi Però Diciamo che c'è ancora Un po' da lavorare E dietro Con loro che hanno tirato La prima volta Al 37esimo Noi qualche sbavatura Ce l'abbiamo avuta Allora Anna Glielo chiediamo ai telespettatori Cosa ne pensano Del nuovo corso Di Thomassen Direi proprio di sì E proprio per questo Vi mostro quindi Il sondaggio Che potete andare A sbirciare Sulla nostra pagina Instagram Di TV a Vicenza Ed eccolo qui Per questo vi parlavo Di bicchiere Mezzo pieno Prima Perché vi vogliamo Chiedere proprio Cosa vi sta piacendo Di più di Thomassen Di questo nuovo mist Il fatto che abbia disposto La difesa a 4 Il fatto che stiamo vedendo Un po' meno ammunizioni Forse perché ci sono Più giovani in campo Oppure per gli incontristi A centrocampo E l'opzione è anche Dei giovani Ci sono molti giovani Molti Giovani della rosa In campo L'altra opzione L'ho detto L'avevi messa Che giovani in campo Stavi guardando L'1 a 0 Adesso a suolo Andrea Pensi io che sia distratta Invece mi dispiace Anche giovani in campo Evidentemente Ad Andrea È questa l'opzione Che piace di più E quindi ci teneva Particolarmente Che la sentiste Il fatto di avere Tanti giovani in campo Però sono tante Le altre opzioni Che vi abbiamo dato Nel sondaggio Immagino ce ne saranno Anche delle altre Quindi se ce ne fossero Ovviamente poi Le commenteremo insieme Attraverso i messaggi Già stanno arrivando Comunque I primi commenti E Anche se insomma Sono più incentrati Su quelle che sono Le problematiche Ma tentiamo di dare Un po' una svolta Massimo Allora Tu sei un allenatore Disoccupato Ti chiamano Per andare a fare Il playoff E ti dicono Ti diamo il Vicenza Ha una marea di problemi Sta squadra Perché è fragile Ha tanti gol Però insomma Sai anche che hai Dalmonte Ferrari E tutti gli altri Te la prendi tu Una squadra così Per fare il playoff? Però sì subito Perché Thomas Arriva un po' così No? Però sì Capisco È normale Però la squadra La rosa È forte Io lo ripeto Da mesi È una squadra È una squadra È una rosa forte I playoff Sono un altro campionato Quindi bisogna Resettare Tutto Secondo me Se dovesse andare bene Nella Coppa E poi rimangono Non so quante partite Quattro Invece di sei Tra l'altro Ti eviti le partite A gara secca Che sono sempre Esatto E io sfrutterei Quel periodo E quel momento Per recuperare Mentalmente Chi magari In questo momento Soffre un po' di più O ha sofferto Un po' di più E chi ha tirato La carretta Per magari Per più Farlo rifiutare Un attimo Facendo esperimenti O consolidando Quella che è l'idea Consolidando Credo Perché È difficile In un playoff Inventarsi Delle cose Io credo che Il mister Andrà avanti Per Io Sono io Adesso Andrò avanti Per quella strada Lì Senti Dimitri Il Vicenza Ha fatto bene Nella Coppa Quest'anno Che era proprio Le partite Dentro o fuori Vuol dire qualcosa Per i playoff Ma secondo me sì Perché comunque È una squadra Che ha nel suo DNA Anche la partita secca Secondo me Può mettere Quel qualcosa in più Io penso che I playoff Come hai detto tu Giustamente Siano un campionato a parte Penso anche che Il Vicenza Arrivi A questi playoff Come una delle squadre Più importanti Quelle più Temibili Che possono arrivare Fino in fondo È chiaro che Più avanti vai E infatti In questo senso Secondo me Sarebbe molto importante Vincere la Coppa Italia Ovviamente Più avanti vai Più possibilità hai Perché Come hai detto Hai fatto notare Giustamente tu Le partite secche Sono veramente imprevedibili E puoi farle bene Come puoi farle male Come puoi arrivare In una giornata storta E puoi anche uscire Poi quando si va Più avanti È un altro discorso Secondo me Entrano in gioco Altre componenti È una lotteria Però è una lotteria In cui Se si riuscirà A rimettersi Diciamo Nel giusto Sintonizzarsi Sulle giuste frequenze Io credo che Insomma Che possa dirla sua Ai playoff Sì poi sai Il Crotone Ad esempio È una squadra Che ha fatto Tanti più punti Del Vicenza Arriverà seconda Nel girone C Però Proprio perché Per tutto l'anno Ha corso tanto Magari arriva Col fiato corto Nella gara decisi Dei playoff Gliene basta una sbagliata Esce Dipende anche Dicendo anche dagli infortuni Eh appunto Capita Che in quel momento Tu riesci a recuperare A Vicenza Per dire Per quello che abbiamo visto Ultimamente Ierardi è un giocatore Però sta recuperare Sta riprendendo Ha detto che lui Comunque se arriviamo Sarebbe molto Ai playoff Vuole esserci L'ultimo Ierardi È tanta roba Insomma Quindi sarebbe Veramente Sì Dipende anche come ci arrivi Se di rincorsa Magari vinci la Coppa Le altre tre Non ne perdi neanche una Ti dà Ti dà morale Per quelle dopo Penso la Pro Sesto O ancora di più L'Ecco Che adesso sta un po' Tirando indietro Può essere un po' Più difficoltoso Per loro Sentiamo qui Il patron Dell'Anerossi Renzo Rosso Cosa ci ha detto Quest'oggi Riguardo Alla possibilità Di centrare ancora Il grande traguardo Ha parlato anche Dei tifosi E di mister Thomassen Allora Sentiamo Renzo Rosso La prima domanda Era relativa a Come si chiuderà Questa stagione Biancorossa Sì Mi ha fatto molto piacere Speriamo sia Per la densima volta L'inizio di una buona storia Perché abbiamo Una bella squadra Secondo me Adesso c'è anche Un buon clima Abbiamo ancora Due buone possibilità Davanti La Coppa Italia E i playoff Quindi speriamo Di arrivare bene Quindi Crediamo ancora Nella Serie B Finché Non è possibile I numeri Dicono che possiamo Arrivare Per cui abbiamo Tutte le possibilità Speriamo di sì Un po' Il clima Un po' Di clima Con i tifosi Che forse Non ha proprio Esattamente I colori Primaverili Della Pasqua Normale I tifosi Ovviamente Sono molto Tifosi Quindi sono Innamorati Della società Innamorati Della squadra Vorrebbero sempre Di tutto di più Purtroppo il calcio Non è sempre così Che le cose vanno Come si vorrebbe Ho cito sempre L'esempio della nostra Nazionale Che la stessa squadra Stesso allenatore Hanno vinto i campionati europei Non siamo riusciti a qualificarci Per il campionato del mondo Questo è il calcio Quindi è anche il bello Però del calcio Che anche se hai una squadra Fortissima Non è detto Che il risultato arriva Un allenatore nuovo Che arriva dal primavera E che ha portato Proprio ieri sera Subito Un buonissimo risultato Lei è soddisfatto? Beh è un ragazzo Che conosceva già bene la squadra Quindi la viveva già Conosce i giocatori Per cui è stato abbastanza facile E poi molto serio E scandinavo Una mentalità molto fredda Che devo dire A me anche piace molto Sinceramente Quindi speriamo Possa dare questa sua mentalità Questa sua saggezza Questa sua modo di fare Molto pacato Possa portare bene i giocatori Allora Claudio Pasqualini Cosa leggi tra le righe Le parole di Lenzorosso? Leggo Il doveroso Tentativo Di restare aggrappato All'idea della promozione A crederci Se non ci credesse lui Sarebbe veramente grave Lui ci crede Convintamente Con tutte le riserve Che peraltro Ha opportunamente Anche queste Espresse E quindi Come ho detto All'inizio Anche noi tutti Dobbiamo crederci Deve crederci Soprattutto la squadra E deve crederci L'allenatore Che secondo me Con la sua Io non lo conoscevo Sapevo Chi era L'ho conosciuto qua Una volta Ricordo È venuto In trasmissione Ma mi è piaciuto Per come si muoveva In panchina domenica Composto Professionale Serio Come anche Rosso Ha sottolineato Scandinavo E io Scandinavo E credo che debba Che questo possa aiutare I giocatori A convincersi Che le idee Che lui ha Ancora Non è vero Che non ha fatto Che non ha introdotto Novità Per esempio La difesa a quattro Credo l'abbia sperimentata Lui Per primo Quindi Ecco Io credo che Deve convincere Lo spogliatoio Il gruppo A dare l'anima Anche per lui Un pochino Perché Adesso non voglio citare L'esempio di G.B. Fabri Ma Capito Cioè una roba Di quel genere lì Nel senso che La squadra Anche senza vederlo Non si sbracciava mai Stava sempre lì Bello composto Ci creda Nelle teorie Di questo Giovane Ragazzo Che sa di avere Una grande occasione Anche personale Professionale E che penso Possa sfruttarla Restando quello che è Insomma A me domenica è piaciuto Vederlo muoverci Senza sbracciarsi Senza urlare Senza Esagerare Poi se saliamo di categoria A Monza E a Genova Hanno fatto questa scelta E' andato bene? Sì No? Sì Gilardino E Palladino Con gli allenatori Quindi si può Insomma Ecco Sì sì Poi c'è anche la Juve Ad esempio Però Non sempre Compirlo Non andò così bene Giovi abbiamo parlato Prima delle Sono anche le opzioni Del sondaggio Che ci ha presentato Anna Abbiamo parlato Abbiamo parlato di Ammonizioni Di difesa In battuta Gli incontristi Mi sembrano Un aspetto importante Anche nella partita di ieri Avevo detto Prima di Zonta Gran partita Greco Magari un po' più in ombra Però Sì però Entrambi gli allenatori L'avevano presentata così Era importante la fase di rottura Del gioco avversario E alla fine si è giocato su quello Con Zonta Che ha fatto sicuramente Una buona partita Impostato coi due Davanti alla difesa In modo da schermare Maggiormente Da aiutare A riprova che non era solo la difesa Ma la fase difensiva Quindi sì Tornano molto utili Con la speranza Che poi Ci possa essere anche Una divisione Cioè se noi siamo Compatti Chiusi dietro Poi coi quattro La davanti Con la qualità che hanno Un gol prima o poi Te lo fanno in qualche modo Cioè Il gol di Dalmonte Se l'è sostanzialmente Inventato lui Quello di Begic Bravissimo stop Anche Valietti Che ha dato la palla in profondità Begic Che poi è arrivato di corsa Ok Però come dialogano Là davanti Con la qualità che hanno Si va sereni Lo stiamo rivedendo Proprio adesso Il gol di Begic Con l'assistenza di stop Certo è che Thomas Non si è fatto scrupola A lasciar fuori Ronaldo Cavione della morte Che insomma Sono tre titolarissimi Sulla carta Infatti lui è partito Le prime partite Con quelli che conosceva di più Con lo zocco Con lo duro della squadra Con quelli magari un po' più navigati Adesso un po' alla volta Sta lavorando di cesello E l'ha fatto capire Sono scelte tecniche Non solo scelte di condizione Quindi va dato atto a lui Che ha impostato una squadra E ora la sta sistemando Su qualcuno insiste Vedi i cappelletti dietro E su altri invece Ha deciso di fare delle scelte Che l'hanno premiato Anna allora Io dai messaggi che vedo in onda Non è che vedo proprio Questo entusiasmo Ma dimmi tu Allora sicuramente Sì non c'è al 100% L'entusiasmo Anche perché Insomma C'è chi si ricorda Una squadra che girava A mille A dicembre Ad oggi invece Siamo passati Dalle stelle Alle stalle Quindi non è di certo Una partita che fa La differenza Questo è un po' Quello che pensano I telespettatori Dicono ok Crediamoci fino alla fine In partite secche Siamo forti Siamo il Vicenza E ci temano Però dall'altra parte Ci sono anche telespettatori Che dicono Guardate che il Trento Era una squadra Di quasi morti Io aggiungerei Che comunque I quasi morti Noi molto spesso Li abbiamo risuscitati Quindi comunque Non c'è andata malissimo Poi ci scrivono anche L'anno scorso Sempre ottimista Anche l'anno scorso Grande Anna che non ti arrendi Andrea mi tocca Nel senso A forza di leggere Il messaggio Un po' di questo mood Alla fine lo assumo anche io Ci scrivono poi Anche l'anno scorso Eravamo favorite I playoff Per restare in Serie B Infatti adesso però Siamo in C Una partita positiva Appunto non cambia La squadra Sicuramente ci sono Tante problematiche Una tra queste È il posizionamento Dei giocatori in campo Ad esempio Greco Greco è il più nominato Ieri Non è piaciuta La posizione In cui è stato arruolato È una mezzala Ci scrivono ha giocato 35 partite Da titolare In questo campionato E solo 8 Nel suo ruolo Questo potrebbe essere Un problema Infatti ieri Non l'abbiamo visto Proprio al massimo Delle sue potenzialità E poi invece Apprezzata l'assenza Di Ronaldo Anzi ci dicono Io aggiungerei Addirittura Questa come piacevole Novità Apportata dal mister Una squadra Una squadra più operaia Secondo i telespettatori Senza Ronaldo Comunque Andrea Per rissumere un attimo Questa prima parte Di messaggi Secondo me Le parole chiave Sono state No idee Stimoli mancanti E comunque Un problema sempre di difesa Hashtag Però se io Se posso aggiungere Se posso aggiungere Ma è colpito Un commento Di un telespettatore Che diceva Parafrasando il vinitele Siamo un po' Come un vino rosso Fermo Adesso dobbiamo diventare Un brutto Con le bollicine Aspettiamo Il tappo Dello spumante Che salta Certo Che è un vino rosso Che passa ad un brutto Un po' complicato Ho saputo rinunciare Un po' complicato Non è un vino rosso Però è interessante Sulla scia Di quello che si diceva Prima vedere Come le persone Sono in attesa Di un piccolo segnale Per Non c'era dubbio Come sottolineato Pasqua lì Che tu avresti colto Quel messaggio lì Io invece ho colto Quello simpatico E lui è friulano Ho colto quello simpatico Del telespettatore Che faceva notare Che Thomas Che è danese Che l'Europeo del 92 La Danimarca Erano tutti in ferie Li richiamarono Perché era stata esclusa La Jugoslavia L'ex Jugoslavia E Mentre erano al mare Ficciano l'Europeo Sì Vincendolo poi E quindi suggeriscono Un playoff Per il Vicenza Con il ritiro al mare Proprio per fare Lo stesso percorso Con l'allenatore danese Vabbè Si scherzano Andrea sulla questione Ronaldo invece Chi l'ha visto spesso Dimitri Immagino È un giocatore Da croce delizia È un giocatore Veramente difficile Da inquadrare È un giocatore Che potenzialmente Potrebbe fare Anche categorie superiori Rispetto alla Alla Serie C Se invece È stato così tanti anni In Serie C Un motivo ci sarà E Penso che quest'anno Si sia capito Anche il perché Lo si era capito Anche l'anno scorso A Padova È un giocatore Che È incostante Ha dei numeri Veramente Di categoria superiore Nelle punizioni Nelle verticalizzazioni Anche nel Modo di gestire Determinate situazioni Poi però Dal punto di vista La copertura La difesa Ha qualche Qualche lacuna Dimitri manca Anche un po' Di carattere Forse Non lo vedo Non lo vedo Insomma l'anno scorso Era capitano Non prende in mano La squadra No infatti Secondo me Il Padova Ha sofferto il fatto Che lui fosse capitano E ripeto Lo dico Con la stima Per il giocatore Perché comunque Secondo me È un ottimo giocatore Assolutamente È un ottimo giocatore Il problema è che Non so Forse L'abito Da capitano Non gli si cuce Addosso Nella maniera Migliore Perché un capitano Ha determinate caratteristiche Ti posso anche dire Che raccogliendo Alcune dietro le quinte Di alcuni Suoi ex allenatori Un po' Condividevano Insomma Questo 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 pensiero Però è anche un giocatore Che in alcune partite Ti può dare veramente La scintilla Questo è importante Io infatti A lui Non rinuncerei Per così dire Nelle partite secche Dei playoff Forse Ronaldo Ti può fare Quel calcio di punizione Che ti vale Mezza partita Sì perché Ronaldo È quello che più Di ogni altro Sa Cosa è il calcio Insomma Si vede che lo mastica Bene Lo sai parte Palla al piede Riesce a procurarsi i rigori Riesce a saltare l'uomo Ha dei numeri Indiscutibili Che sono Certo È incostante Non sempre fa così Poi a volte È anche Indisponente Persino rissoso Sì sì Quindi Da quel punto Il suo comportamento In campo Non è esemplare Non è da capitano Come tu hai sottolineato Vabbè Però lì Tomassen dovrà decidere Zonta e Greco Mi danno La copertura Che ho avuto ieri Ronaldo Mi dà Quel qui di in più Vi dovete vedere anche Ronaldo come recepisce Questa cosa Perché Ha ragione Claudio Mentalmente È un giocatore Particolare Molto particolare Con delle grandissime qualità Ma se fa il Ronaldo È una cosa Se il Ronaldo non lo fa Può diventare un problema Per questa squadra Io quello che ho detto L'ho detto Nonostante abbia in mente Perché ricordo Che la guardavo In televisione La partita Di ritorno Della finale Dello scorso anno Quando si è fatto Espellere a Palermo Fossi stato Un tiforo del Padova Non hanno mancato Infatti è stata Una delle basi Per il fatto Che il rapporto Si è interrotto In una partita del genere Non puoi fare Una cosa del genere Infatti I rischi sono quelli Però quando Ha la palla tra i piedi Lui la fa cantare No ma ne ha Ne ha decise Parecchie di partite Cioè lo scorso anno Ci sono stati alcuni Alcuni match In cui proprio lui Non dico che l'abbia vinta Da solo Ma siamo vicini Ricordo per esempio Una partita Virtus Verona A Padova Con un rigore Conquistato al novantesimo Da lui Che proprio Ha questo aspetto Qua lo spunto La capacità di saltare l'uomo Il fatto anche Di essere furbo E comunque Di sapere i movimenti Anche Nel modo tale In cui Vai a tendere Un tranello Anche all'arbitro Perché È quei movimenti tipici Di andare a prendersi il fallo Però poi È incostante È inaffidabile In alcune circostanze Devi Però quando tira punizioni Così Assolutamente E devi dire Devi sempre Come posso dirti Sperare di essere Nella giornata giusta Sei nella giornata giusta Perché Io ricordo Per dirti La finale Playoff Con l'Alessandria In cui Il Padova ha perso Lui fece una partita Eccezionale Eccezionale Mi ricordo Mi ricordo Servì un assist A Biasci Che Biasci Spedì Non riuscì a Concretizzare Da pochi passi Quest'anno Qualche volta Abbiamo visto Quello che può dare Questo giocatore In tutto e per tutto È il Ronaldo Che negli ultimi anni Ha fatto parlare di sé In un senso o nell'altro Che però Gli manca Il playoff Ha davvero l'occasione Di incidere Perché basta incidere In una partita In un episodio Nelle gare dei playoff Così secche E strette Può essere sufficiente Quando torniamo Dalla pubblicità Facciamo un salto Indietro di 25 anni Perché c'è Vicenza Chelsea Da celebrare Incontriamo Pasquale Luiso Mi date un'anteprima Con le foto Di Antonio Di Lorenzo Che ha pescato In un archivio Sconfinato A sua disposizione Un po' di cose Qui La celebrazione Di Barizza Che fu lo sponsor Vediamo quella Quella successiva Ma qui siamo Su una foto Dello Stadio Menti Andiamo avanti Andiamo avanti Vediamo Se arriviamo a quelle Della Coppa No Ci arriviamo dopo E allora ce le vediamo Ce le vediamo dopo Va bene dai Non importa Le vediamo dopo Quella della Coppa Italia Fra poco Dopo la pubblicità Ben tornati rigorosamente Dunque 2 aprile 1998 25 anni fa E un giorno fa C'era la partita Della storia Vicenza Così fu il titolo Che si diede Alla locandina Che annunciava La partita Semifinale Andata Della Coppa Delle Coppe Vicenza Chelsea E la società Quel giorno Fece proprio scrivere La partita Della storia Ahimè fu Premonitrice Di una discesa Di una discesa Agli inf Di senza fine Perché poi Di lì a poco Il Vicenza Retrocesse in B Poi tornò su Poi però tornò in B E da allora In A Non c'è più Stata E vabbè Andiamo a viverci La clip preparata Da Caio Costa Di quella partita Che resterà Negli annali Anche se speriamo Sempre che poi Ci possa essere Qualcosa di simile In futuro La vie Sontai 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 Grazie a tutti. 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 Perché il Vicenza aveva avuto un debutto nel 95 dopo la conquista della Serie A, terribile con i giornali nazionali, compresa la Gazzetta, che avevano parlato di uno stadio albanese. Ah sì, eccoli qua, via i pali, pensateci voi. Questo è il dibattito che è andato avanti, certo perché il comune aveva pochi mezzi e allora l'assessore del tempo è andato dalla società a dire provate a vedere se riusciti a toglierli. Questo dibattito andò avanti poi per tre anni e soltanto con il sindaco successivo, Ulve, che si riuscì a toglierli. e quei pali finirono su tutte le trasmissioni. la partita tra amministratori pubblici e giornalisti. lui non era per la costruzione di un nuovo stadio, anche se ci furono molti progetti che furono presentati, uno dei quali da un gruppo di architetti tifosi. Sì, beh, dibattito infinito a vincezza quello dello stadio, però insomma poi... Certo, certo, il sindaco di quel tempo non era favorevole all'impianto nuovo, invece era molto favorevole Federico Formisano che era in giunta e voleva sostenerlo. e ci furono altri progetti, anche uno che pensava di ottenere il finanziamento per costruire lo stadio dalla vendita del Menti e di realizzare anche il teatro nuovo, che era un dibattito molto vivo, tanto è vero che poi... C'era anche il loghetto di Tony Vedu con... non so se era di Tony Vedu per la verità, però c'era il logo, eccolo qua, grazie alla regia. No, non era di Vedu, però dava l'idea di... Il mino del teatro e il calciatore, il direttore d'orchestra, il calciatore, il teatro e stadio. Un'operazione che era stata lanciata nel 98, poi... Senti Dimitri, certo che tra Vicenza, Padova, Venezia, come stadi, Veneto, non ci facciamo mancare nulla, come polemiche e mancate realizzazioni. Ma devo dirti che onestamente io credo... io iniziai a lavorare proprio al Menti, per cui ho assaporato quello che significa questo stadio per la città e quello che è sempre stato il clima che si vive venendo al Menti. Io penso che non sia così sbagliato immaginare in qualche modo... è uno stadio vecchio, non c'è dubbio, però è uno stadio che ancora rappresenta un pezzo di storia della città. A Padova è stato fatto l'errore di lasciare andare Lapiani. Lapiani era un tempio dello sport, non soltanto padovano, ma anche veneto. Per quanto riguarda Venezia, invece, credo che... non è tanto la qualità dello stadio, penso, che è il più vecchio in assoluto, ma la posizione che purtroppo dove si trova. È un... a livello di impiantistica sicuramente in Veneto siamo in una situazione difficile. Eppure Verona, che è una città che storicamente è sempre in A ed è una città così importante, Bentegodi sente il peso degli anni. Ma purtroppo non è solo il Veneto, quello degli stadi, forse è il... ce ne sono tantissimi, però uno dei più importanti, più gravi problemi che assillano il calcio italiano è quello degli stadi. Che sono quelli che ci sono, come il... due palazzi si chiamava a Padova. L'Euganeo? L'Euganeo. Originariamente due palazzi o no? È vicino al carcere. Era perché era detto... Ma che è vicino al carcere. Ma poi qualcuno che aveva messo le mani sullo stadio ha conosciuto il vicino edificio perché è stato incarcerato più di uno. I politici locali hanno conosciuto... Mi pare uno, ma insomma... Mi pare sì anche a me uno, sì. Se non viene fuori l'idea dello stadio adesso che mi sembra che fra un mese ci sono le elezioni, credo. Non sento parlare di stadio... Guarda, siamo lì che battagliamo per avere gli europei del 32 perché quello potrebbe essere il volano che dà la mossa a pensatù. Però ripensando a Italia 90 vengono i brividi. Sì, vengono lì. Di fatto alla fine la Juve, l'Udinese, abbiamo visto il Mappei, stiamo vedendo, so solo Torino, però qualche altro. In Friuli, Venezia Giulia, però la situazione è molto migliore. Abbiamo la Dacia Arena che è uno stadio, un gioiello e anche il Rocco è un gioiello. Certo, assolutamente. Ma il Menti non si tocca, per così dire. Il Menti deve stare lì, però va rifatto, va reso fruibile per la città anche durante la settimana. Come avviene in Inghilterra con lo shopping, il fitness, negozi, palestre e quant'altro. Andiamo da Pasquale Luiso perché abbiamo celebrato questa partita, Vicenza-Celsi. Quella edizione della Coppa delle Coppe fu ovviamente il capolavoro di Guidolin e della squadra, però Pasquale Luiso ebbe un peso importante, capocannoniere, con otto reti fantastiche, tra Lega-Varsavia, Roda-Kerclade, lo Shakhtar-Donetsk addirittura e appunto il Chelsea. Allora l'abbiamo incontrato proprio poco prima di andare in onda, Pasquale Luiso, sentiamolo. Buonasera Pasquale. Allora, ieri era il 2 aprile ed era il 25esimo di una partita che qui a Vicenza è stata la partita della storia che ti ha visto grande protagonista. Eh sì, sì, sinceramente ho fatto pure un post su Instagram e ho messo la locandina della partita della storia e chi se la dimentica. Un Romio Menti stracolmo di gente, più di 20.000 spettatori, sono ricordi veramente indelebili. Pasquale Luiso, capocannoniere di quell'edizione della Coppa delle Coppe, te la ricordi quella serata del 2 aprile a Vicenza? Che clima c'era in città e almenti? Eh sì, la ricordo sì, la ricordo. Sì, ricordo proprio dall'hotel quando siamo partiti per strada, gente, gente ovunque, gente. Siamo arrivati, siamo dovuti partiti un'ora prima, se è un bel ricordo. Sì, ricordi che veramente non andranno più via, sia da parte nostra, dei calciatori, ma pure da parte della gente. Arrivare allo stadio con tutte quelle bandiere, siamo arrivati fuori allo stadio Menti, era già stracolmo. Siamo andati a guardare il campo, a vedere il campo, non c'era più un posto, un'ora e mezza prima, qualcosa di straordinario. Anche perché il Vicenza aveva già assaporato queste partite l'anno prima con la finale di Coppa Italia, diciamo che si è ripetuto un po' quello che era accaduto l'anno prima con la vittoria della Coppa Italia e addirittura siamo arrivati nella semifinale di Coppa delle Coppe, qualcosa di inarrivabile, credo. Io mi auguro che possa accadere nel futuro a questa nuova società e a chi ci gioca, però veramente credo che sia impossibile, ma glielo auguro. Sì, sì, ce l'auguriamo tutti, però per le piccole squadre è sempre più difficile. Senti Pasquale, quanto arrabbiato sei ancora per quel gol annullato poi al ritorno a Stamford Bridge? Sì, lì ogni tanto che qualche tifoso mi scrive su Instagram mi mandano magari pure l'immagino del gol. Sì, c'è rabbia perché se pensi oggi dove c'è immediatamente il VAR, come la vogliamo chiamare, il VAR, la VAR, non so come la chiamano, sicuramente saremmo arrivati in finale. Però è andata così, ma qualcuno mi dice sei stato talmente veloce nel rientrare, nel ripartire, che non si è accorto neanche il guarderline. Perché sì, io la riguardo ogni tanto, ho fatto il passo in avanti per poi andare a colpire, ma è stata una frazione di secondi. E evidentemente è rimasto lì fermo e ha visto solo quando colpivo che ero oltre al difensore, ma non ha visto che ero rientrato. Sembra incredibile, ma sono passati 25 anni adesso a bocce fermissime e a mente freddissima. E quali erano i punti di forza di quella squadra? Il gruppo, il gruppo senz'altro. No, eravamo una famiglia, nessuno era invidioso. Chi guadagnava 100 euro e chi ne guadagnava 200, era uguale. Una famiglia, eravamo sempre a cena fuori. C'erano dei trascinatori, il Di Carlo, il Viviani. C'era tutto, pure il magazziniere. Quando gli andavi a chiedere una maglia in più, una canottiera in più, era pronto lì. Posquale, a Vicenza c'è un grande attaccante quest'anno che è Franco Ferrari. Mi piace, mi piace, è un attaccante vero. Fa gol, non a casa ha fatto 20 gol, io penso che se continua così diventerà l'attaccante più prolifico, credo, nella storia del Vicenza. Non so chi è riuscito a fare quei gol. Se non sbaglio, comandini, 20 gol, dall'anno della B, su per giù. Dovete andare un attimino a verificare. Anche Paolo Rossi e Toto Rondon fecero tanti gol. Indubbiamente, comunque, Ferrari si può avvicinare o comunque arrivare a quel livello lì. Sì, bisogna andare a retroso di parecchio. Se parliamo di Pablito e Rondon, dobbiamo andare dietro di parecchio. Magari io parlavo di comandini che ci siamo sui 20 anni. Se non sbaglio, abbiamo vinto il campionato di Serie B una ventina di anni fa, credo. Adesso non ricordo bene. Però, parlando di Ferrari, sì, è bravo. Mi piace, è un bomber. Magari non vedi fare giocate tecniche oppure progressioni. Lui è uno d'aria, uno che fa salire la squadra. È bravo di testa, fa dei gol incredibili a volo. Negli ultimi 20 metri è veramente un attaccante di re completo. Questo è stato un ottimo acquisto. Grande, Pasquale Luiso, il toro di Sora, grazie davvero. Però poco li vediamo i gol di Dalmonte, che ha fatto gol per Ginevra e per i tifosi biancolossi. Poi ci vediamo la clip. Claudio Pasqualin, quella squadra lì aveva anche un valore di mercato importante? Sì, sì, sì. Confidavo a Massimo poco fa quale era stato il prezzo, per esempio, di un giocatore, di Lele Ambrosetti, che è l'esterno, che tutti ricordiamo, che è andato proprio a Celsi. Spidi Ambro. Spidi Ambro, non a caso lo chiamavano. Spidi Ambro, come Spidi Ambro. Spidi Ambro, sì, sì, infatti. E che superò i 10 miliardi come valutazione, per dire, di un giocatore. 10 miliardi di lirette di allora, ma pur sempre 10 miliardi. Quase erano comodo. E fu bravo Gasparin, che all'epoca era però direttore sportivo del Celsi. Sì. Poi, Claudio, vengo da te con i tuoi ex giocatori, perché voglio un po' fare un excursus sui tuoi assistiti, perché ci sono dei nomi che non sono affatto male. Massimo, ha detto Luiso, la forza era il gruppo, poi c'erano comunque anche dei solisti importanti, c'erano dei singoli. Sì, c'erano giocatori forti, anche lì, importanti. E poi sicuramente magari il gruppo ha fatto il resto, quello che mancava. Quindi grande soddisfazione per tutti, per la città, per i tifosi, per la società, per i giocatori stessi. A partire dal portiere, Gigi Brivio, che era veramente un compagnone, uno che teneva su lo spogliatoio, per così dire, anche queste particolarità giovano. Basti pensare che lui l'anno prima era il secondo in campionato di Mondini, faceva la Coppa Italia, che tanto uscivi, e invece poi l'hanno vinta. E poi fece anche tutta la Coppa delle Coppe, quindi l'avventura europea. Allora, Anna, mi dai un aggiornamento sul sondaggio? Te lo do subito. Quel che è sicuro è che per i telespettatori la cosa che non è migliorata con Thomassen è quella delle ammunizioni. Come vedete, solamente un 4%. Mentre sono felicissimi della difesa 4. Risposta che non mi stupisce particolarmente, visto che comunque solitamente il 90% dei messaggi riguarda proprio la difesa. Anzi, c'era qualcuno che commentava che appunto vede questo miglioramento, vede più compattezza. Visto che poi in avanti siamo anche messi bene, lo dimostrano i grandi risultati, per esempio, di Ferrari che fa tutto lì davanti, ecco, allora questo sicuramente è un lato che andava assolutamente aggiustato, anche se si potrebbe fare qualcosina in più. E poi piacciono anche i giovani in campo, quello sì, sicuramente. Ma il tuo voto, Giovi, poi l'abbiamo sentito al sondaggio? No, però ti avrei, sarei legato agli ascoltatori con la difesa 4, sicuramente direi... Benefici ci sono. Che benefici ci sono? No, i benefici ci sono. Sì, 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 assolutamente. Abbiamo visto come siamo carenti di terzini, questo ormai è evidente, con Valietti che ha fatto un po' meglio rispetto alla partita precedente, anche perché peggio era difficile. Dall'altra parte, con l'assenza di Sandon, abbiamo dovuto far giocare Bellic che invece nasce come centrale. Anche inventarci in diaie? Sì, assolutamente, però siamo un attimo più coperti. Senti, e Cappelletti ieri non bene però? Ha fatto due svarioni che potevano costarci caro, poi anche lì si sceglie di continuare sulla sua strada. Ieri ha fatto la decima presenza che pareggia le 10 dell'anno prima, quindi vuol dire che in due stagioni ha giocato appena 20 partite. È un giocatore assolutamente da recuperare, ce lo ricordiamo, molto valido e c'è ancora da lavorare per tornare a altri livelli. Altro giocatore che nei play-off potrebbe essere importante perché ovviamente l'esperienza conta in certe partite, no? Chiaro, bisogna soprattutto chiudere la porta dietro perché come detto là davanti di gol ne abbiamo fatti tanti e lì bisogna stare attenti. Dimitri, con Pasquale Luizio abbiamo parlato di Franco Ferrari, abbiamo visto anche nel servizio qualche gol. Un giocatore che ieri è entrato e insomma in mezz'ora comunque ha fatto capire una volta di più quanto è forte questo giocatore. No, assolutamente, io penso che sia veramente l'arma in più di questo Vicenza, 18 gol sono tantissimi, può arrivare a 20 gol dentro la fine della regular season. E poi è un giocatore che secondo me che io apprezzo particolarmente perché anche nei momenti in cui non segna è un giocatore che comunque fa sentire la sua presenza in attacco. Nel gioco di squadra è assolutamente un acquisto indovinato, è stato anche pagato parecchio per essere un giocatore di questa categoria. Penso che insomma sia difficile trovare un attaccante così forte insomma in Serie C come lui. Non è neanche facilissimo replicare il gran bottino di gol della stagione prima, no? Esatto. Perché poi magari ci sono gli attaccanti che un po' si appannano. Rischiamo di basarci troppo su Ferrari, nel senso che Rolfini non ha fatto male in realtà fino a quando ha giocato e soprattutto ha fatto giocare molto bene anche stoppa dietro, dal monte. Mentre magari con un Ferrari in campo c'è un gioco un po' diverso, palla lunga su di lui e basta. Sai, sono equilibri difficili da incastrare perché se ti affidi a un determinato tridente alla fine poi devi aggiustare il centrocampo, a sua volta la difesa ha bisogno di copertura. Per esempio insomma in un ipotetico terzetto di centrocampo perché poi gli allenatori fanno fatica a rinunciare a Zonta? Perché è quello che ha la copertura maggiore e che riesce comunque a mantenere determinati equilibri. Mentre Ronaldo come dicevamo in precedenza anche insomma non è che abbia una grandissima copertura. Quello che sta mancando secondo me a centrocampo del Vicenza è Cavion. Cavion avrebbe dovuto dare copertura in difesa e qualità in avanti, quello che aveva dato l'anno scorso in Serie B. E davanti secondo me le soluzioni sono molteplici, io credo che sia il reparto dove il Vicenza... Però per quante ce ne siano non possono prescindere da Ferrari. No, questo assolutamente. Se ci mettiamo a discutere Ferrari è veramente la fine. Assolutamente. La maglia subito a lui e la domenica e poi gli altri insomma. Mentre parlava Dimitri c'è stato il pareggio del Torino. Doveva essere la partita di Pinamonti e Sanabria. Hanno effettivamente segnato entrambi. Sassuolo che era andato sul 2-0 con Laurentier ma Alvar che mentre lo nominava proprio il Toro di Sora ha annullato il gol e poi il Torino è andato dall'altra parte colpo di testa del numero 9 Granata per l'1-1. Mentre per quanto riguarda il Città di Meda in vantaggio c'è l'Ecco con Zambataro sfruttando per la verità anche una mezza papera di Furlanetto il portiere delle Renate mentre quello dell'Ecco ha tolto le castagne dal fuoco un paio di volte e quindi l'Ecco che rimane avanti contro il Renate. Comunque il Vicenza non può più andare a giocare al Città di Meda. A proposito di Stadi Gioiello è assolutamente... Dov'è? Sto parlando di Stamford Bridge fino a pochi minuti fa, ragazzi. Per carità. Ma non posso. Noi variamo da Stamford Bridge al Città di Meda. Andiamo sulle colonne del giornale allora per Stamford Bridge e chiedo alla regia se ci fa vedere un po' delle foto di Antonio Di Lorenzo che celebrano anche la semifinale di Coppa delle Coppe. Antonio, tu avevi fatto un libro su Vicenza anni Ottanta. Tutto sto archivio sugli anni Novanta mi dice che stai... Oh, guardate, c'è Luca Vialli, poi ne parliamo ovviamente. Eccolo qua. L'allenatore, tra l'altro, di quel Chelsea che ci cacciò fuori, no? Sì, sì. Era giocatore-allenatore. 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 E la vinse lui, ma dopo ne parliamo magari. Sì, sì, volentieri. Proprio quella partita lì fu decisiva perché vide Viviani un po' fuori fase e si piazzò da quelle partite. Qui siamo tornati al menti, però la gara d'andata con Antonio le pagine del giornale per celebrare quella vittoria. Questa è stata la pagina e il titolo che battezzò quella vittoria che rimane poi nel cuore di tutti. Non è un azzardo pensare in svedese. La grande redazione del giornale allora, come lo è adesso, per carità. E ce ne sono... Eccolo qua. Queste sono altre pagine del giornale. Questa è la promozione in Serie A del 1995. Eh, dicevo, tutta questa attenzione agli anni Novanta mi fa pensare che stai lavorando a un bis? Sì, sì, sto raccogliendo materiale per raccontare la Vicenza degli anni Novanta che era una città molto in fermento. Eccolo qua, un altro titolo per celebrare la promozione in Serie A. Quindi si chiamerà Vicenza Novanta, immagino? Se l'altro era Vicenza Ottanta? No. No, attenzione. No, no, si chiamerà Vicentini da Novanta. Ah, ok. Bene. Perché ci saranno vari aspetti. Quegli anni sono stati tumultuosi per tanti motivi. Ecco qua, Tomba e... Barizza. che era uno sponsor, un convinto sostenitore del Vicenza in quegli anni, ma sì, si pensava a far passare un tram in corso palladio, per esempio, perché si era molto affascinati da queste idee. Nel frattempo a Padova l'hanno realizzato, a Venezia l'hanno realizzato e noi forse con l'alta velocità riusciremo a farlo, ma non passerà percorso palladio. Va bene, allora, quando torniamo ci sono i gol di Dalmonte e parliamo anche con Claudio Pasqualin di Vialli e di tanti altri grandi giocatori. Fra poco. C'è ancora il Città di Meda qui che fa discutere. Come l'abbiamo vedendo San Paolo oppure San Siro. Città di Meda. No, tu hai fatto il tuo. Succede anche di perdere. Ma la cosa peggiore è che perdiamo in quei campi e poi arriva subito dopo il Meda, veramente, che gioca in Serie D, che prende il posto della Vicenza che va via con la testa bassa. Quindi sono esperienze che abbiamo vissuto, purtroppo, anche quest'anno. Che tristezza. Dopo di noi c'è una puntata speciale di Arresport. Allora vado a collegarmi con Marco Meletti perché è una puntata in esterna quella di stasera. Marco. Ciao Andrea, buonasera. E una buonasera anche ai tuoi ospiti di Rigorosamente Calcio. Questa sera una puntata speciale di Arresport. Siamo al 268R, il nuovo centro sportivo del nostro Luca Rigoldi che è qui con noi. Parleremo di box, di tante altre discipline sportive e soprattutto, come sempre, andremo ad argomentare quello che è accaduto nel weekend con la Rangers Rugby ancora in testa al campionato, con l'Antea Volley che torna alla vittoria, la sconfitta della Rangers Pallanuoto e le due sconfitte del basket. e poi ancora ospiti e interviste speciali in una serata veramente particolare. Grazie per l'ospitalità Luca. Naturalmente con lui ci vediamo dopo. A più tardi. Ciao Andrea. Grazie, grazie Marco. Dunque Arresport dopo di noi. Serie B ci credo ancora. Lo abbiamo sentito prima Renzo Rosso. Per la Serie B servono tutti i giocatori di cui abbiamo parlato stasera a cominciare da Bomber Ferrari. Dio ce lo preservi. Recuperiamo Ronaldo. Speriamo nella continuità di tanti altri. Gerardi sarebbe preziosissimo il suo rientro ma serve un Dalmonte super come è stato ieri e come è stato in altre tante altre partite in questo campionato in cui ha fatto otto gol e un sacco di assist. Allora, la clip dedicata a Nicola Dalmonte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' ancora relativamente giovane perché ha 25 anni. Sì, 25. Al suo arrivo, per esempio, a Vicenza io pronosticavo subito detto che sarebbe diventato veramente un buon giocatore. Ha avuto un infortunio che l'ha frenato ma fa ancora in tempo insomma a prendersi importanti soddisfazioni perché ha una base tecnica rara. Anche fisica, anche fisicamente. Anche certo. E' importante. Dimitri nel suo ruolo è uno dei top player non solo del girone, credo. Sì, penso che sia uno di quei giocatori che in caso di salto di categoria potresti tranquillamente tenere anche in Serie B perché ha già dimostrato di valerla ed è assolutamente, come ha detto Massimo, a tutto. Non gli trovo difetti clamorosi. sa far tutto, lo sa far bene e l'unico suo difetto, se vogliamo chiamarlo così, è che spesso e volentieri lo hanno tradito gli infortuni e quello purtroppo è una variabile che nella carriera di un calciatore va considerata. Giovanni Modesto gli ha fatto fare anche il terzino. Sì, c'è da dire. Nominavi prima i numeri che rappresentano bene la sua stagione. 8 gol, vuol dire il doppio di quello che aveva fatto il suo best scorer in carriera. 7 assist, giocando anche da terzino l'abbiamo visto o comunque a tutta fascia a stancarsi molto. Quest'anno non aveva ancora segnato tutti i set precedenti erano del 2022 ma questa è una perla l'ottava meraviglia di un campionato decisamente molto positivo. Ah sì. Dunque, dicevo Claudio Pasqualina nella sua, posso dire, quarantennale carriera? Eh, non diresti una falsità. Non sei una signora quindi insomma no. Non ti offenderai? No, basta che, appunto, che si può dire che ho battuto il marciapiede del calcio perché anche quelle signore lo fanno, insomma. E l'immagine del procuratore a volte non si discosta molto, vero Massimo? Da questa figura. hai assistito circa 300 giocatori il fatto è che non hai assistito ai giocatorini ma fior fior di campioni assoluti e io ieri intanto Giovi sta andando a segnare il gol. Sì, siamo agli ultimi dieci secondi con il Lecco che era doppia e quindi si porta a casa i tre punti due a zero a Meda contro il Renate direi che a questo punto anche l'aggancio in classifica per noi diventa molto molto difficile. a riprova che la Coppa è definitivamente il nostro obiettivo. Eh sì, assolutamente. E città di Meda a muto liscio. Tra un centinaio di tifosi comunque arrivati da Lecco a lunedì sera non male. Dicevo, fior fiore di giocatori e io ho chiesto a Claudio Pasqualini di farmi la lista di quelli che secondo lui sono i dieci più forti. Lui mi ha fatto la lista e l'abbiamo condensata con le foto. Allora, al primo posto Claudio, vuoi dirlo tu? Andiamo a vedere il numero uno. C'è ovviamente del Piero Alessandro in arte Ale non Alex Ale Ale e poi gli altri non li so Al secondo posto ero sorpreso sapere che Al secondo posto hai messo il Gianluca Luca Viali mi è venuto così ancora caldissima l'emozione il dolore non ho fatto un ordine di merito certo anche finora andiamo bene con Viali con del Piero e Viali senti prima e poi al terzo posto chiudiamo il podio con Gattuso Gattuso ha fatto veramente un carrierone che magari all'inizio non era facilissimo pronosticargli c'era chi discuteva i suoi piedi per così dire non sapendo che invece erano piedi magari non fatati ma molto sensibili e oltre alla grinta e alla volontà e alla cattiveria tra virgolette aveva anche piedi buoni e sapeva dove mettere insomma Massimo un discreto podio del Piero Vialli Gattuso andiamo avanti vediamo le altre posizioni dei dieci super assistiti di Claudio Pasqualina quarto posto hai messo Dino Baggio che mi ha sorpreso un po' perché non l'avrei messo tra i più invece Dino Baggio guarda ha fatto un carrierone nazionale ricordiamo di più sì certo vice campione del mondo in Brasile con Sacchi tanta Juventus un giocatore che merita di stare nell'Olimpo non solo dei miei ma anche del calcio italiano e poi ne hai messo uno che poteva essere davvero un giocatore dirompente per la storia del calcio che invece poi ha un po' tradito le aspettative Gigi Rentini questi erano guarda 80 kg che scavalano un altro colpo questo fu un colpo veramente particolare perché era l'oggetto del desiderio dei due uomini più importanti d'Italia perché da una parte lo voleva la Juve dell'avvocato nel senso di Agnelli e dall'altra c'era il Milan del Cavaliere nel senso di Berlusconi quindi il suo trasferimento fece epoca per così dire se ne parlò veramente a lungo 80 kg di peso che scavallavano sulla fascia con una potenza ma anche una fantasia e un'agilità veramente rare purtroppo il destino era in agguato perché quella notte a rientro da una partita giocata a Genova forò la gomma della Porsche nessuno gli disse al distributore dove la sostituirono con il ruotino che aveva di scorta che con il ruotino non potevi superare i 70 e lui non lo sapeva e quindi andò oltre i 70 e fortuna che dall'altra parte quindi la macchina andò andò contro il guadrain in autostrada prese fuoco fortuna che di lì passò adesso mi viene da raccontare questa scusatemi se mi dilungo passò il pollo berico nel senso che passava un furgoncino con la scritta il pollo berico condotta da un vicentino che commerciava pollame e che io incontravo sempre per la precisione l'incontravo all'altezza di Ponte degli Angeli che andavamo allo stadio io normalmente abbigliato lui col suo immancabile cuscino bianco-rosso e mi diceva e mi diceva già mi preparavo al dialetto con cui lui si rivolgeva a me diceva avvocato il Varda che diga a quel suo assistito che ha manco una telefonata poteva farmi perché il pollo berico inchiodò vedendo la Porsche in fiamme il signore titolare della cosa riuscì a intravedere tra le fiamme il corpo del ragazzo lo prese per i piedi e lo tiro fuori e bella vita salva anno questo? che anno era? oh va a saperlo adesso chi lo sa? 90 90 4 3 2 io poi non ci metto becco sul tuo lio però il pollo berico secondo me è un bel aneddoto questo ma Claudio è una miniera di aneddoti fatevi raccontare non l'ha avuto come contratto ma fatevi raccontare come ha conosciuto Zoff beh Zoff l'ho conosciuto perché è stato tesserato per l'udinese anch'io ero un tesserato dell'udinese e quindi ero l'ultimo baluardo prima di lui in quella squadra De Bartino che aveva tra i suoi giocatori molti giocatori che venivano dalla cosiddetta bisiacchia cioè dalla zona verso Gorizia come e che erano nomi curiosi come c'era Zoff Pasqualin Bigot Culot Bosdaves erano questi Bosdaves bisiacono era anche Burnic anche Burnic anche Capello anche Fabio Capello era bisiacono quindi quella era l'etnia scusatemi per l'episodio del Polo Berico ma meraviglioso io dopo domani il Polo Berico lo voglio approfondire comunque andiamo avanti con la classifica dei super assistiti del Piero Vialli, Gattuso Baggio, Lentini vediamo in sesta posizione hai messo Nicolino Berti e quindi siamo al primo interista che troviamo in classifica settimo posto Nicola Berti Paolo Montero Paolo Montero che ricordo ebbe un problema a Vicenza ah sì contro quello cortiana eh sì col fotografo col fotografo che è un episodio un po' di cui poi io sono diventato già lo ero grande amico e poi all'ottavo posto un super attaccante che io pensavo tu avresti messo nel podio Oliver Biroff invece lo hai messo un po' più indietro sì no Oliver Biroff fu veramente un fortunato esperimento perché arrivò in Italia accompagnato non da una grande fama lo ingaggiò l'Inter ma lui in realtà non vide mai il terreno di San Siro fu subito prestato all'Ascoli e all'Ascoli giocava e non giocava ricordo che se la prese con me perché portai lì un giovanotto del Padova il diciottenne all'epoca Filippo Maniero che a volte gli rubava il posto e lui ce l'aveva un po' con me perché gli avevo portato ma guarda se ti fai superare nella graduatoria dal diciottenne che ha giocato solo nella primavera del Padova siamo messi male nono posto poi ci fermiamo il decimo e lo teniamo fermo un attimo il nono posto è per un altro giocatore del Milan che è Mauro Tassotti pensa tu quanto vecchio sono se pensiamo a Tassotti pensiamo qui siamo i primi anni 80 senti ma di questi qui del Piero Vialli Gattuso Baggio Odino Lentini Berti Montero Birofe Tassotti quello che ti faceva dannare di più per la questione economica chi era? era forse Nicola Berti per esempio che stava intanto per lui ricevetti una telefonata cosa abbastanza inusuale per un procuratore specie all'epoca di Arrigo Sacchi che chiese a me se io l'avrei portato negli Stati Uniti con la squadra perché era reduce da un infortunio veramente serio credo di no 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 io sono stato come dire sono stato equilibrato credo poi alla fine l'ha portato ma certo era l'unico giocatore che stava andando al mondiale senza il contratto c'era la diatriba sul contratto e allora lì le uscimo fuori con un'invenzione diciamo così non dico giuridica o para giuridica interessante perché il problema era come Massimo sa bene fa parte della terminologia tipica dei contratti con opzione o senza noi volevamo tre anni l'Inter invece ne accordava due più opzione allora mi venne l'idea stavo per dire mi inventai in effetti mi inventai l'occasione della penale se non esercitava il diritto di opzione quindi in effetti gli anni diventarono tre in una maniera e al decimo posto invece hai voluto mettere qualcosa che guarda il futuro perché hai messo un giocatore giovane della Juve che è Niccolò Fagioli sì ho voluto metterlo proprio per far vedere ai telespettatori che ancora vivo esisto ancora grazie soprattutto alla collaborazione di mio figlio Luca e del mio ormai trentennale socio o anche più sono 35 anni che sono in società con Andrea D'Amico abbiamo tra gli altri anche il giovane Niccolò Fagioli che ha sorpreso tutti quest'anno la società che dura 35 anni funziona bene sì sì rarissimo rarissimo caso tra tutti questi campioni sono accomunati da un Fiorrugio un qualcosa che hanno veramente in comune per arrivare a quei livelli che li ha fatti diventare ricchi per esempio che Claudio Pasqualini li ha fatti diventare tutti molto ricchi siccome anche Massimo può confermare che il tuo successo dipende dal momento in cui scegli il cliente o vai comunque a proporti a qualcuno e quindi ne capisci tempestivamente allora si poteva fare così adesso è impensabile poi se avremo tempo ci diremo perché la sua caratura tecnica perché il tuo impegno è lo stesso sia che tu debba anche nel senso di impegni fisici dover andare qua piuttosto che là le telefonate i preliminari tutte le cose che occorre fare e quindi aver scelto giocatori di un certo tipo e come dire essersi fatto tempestivamente all'epoca una certa fama per esempio Vialli di cui tu volevi parlare prima prese un procuratore prese il sottoscritto solo l'ultimo anno di carriera lui si era gestito tutta la carriera da solo solo che a un certo punto avendo deciso perché aveva il contratto in scadenza con la Juventus di assumere un professionista evidentemente io in quello spogliatoio già avevo Del Piero Viercovud Marocchi avevo già altri giocatori che ovviamente mi aprivano la strada il modo era quello e poi all'epoca c'era concorrenza sì ma non c'era quelle feroci guerre che ci sono oggi a suon anche di pagamenti più o meno cash certo senti poi dalla lista sono rimasti fuori niente meno che Cassano Toldo Del Vecchio Gans Iacquinta Branca Viercovo dell'hai nominato prima Daniele Fortunato anche che salutiamo abbiamo avuto Cassano per un periodo per un periodo gestibilissimo cazzo tranquillo che non creava problemi anche Cassano la domenica sportiva io sono invitato a Milano arrivo negli studi non l'avevo mai visto perché era andato a prenderlo un mio collaboratore che stava a Cosenza un giovane avvocato l'avvocato Bozzo che tu forse avrai conosciuto era con me e continuava a dirmi Claudio vieni a conoscerlo ti vuol vedere non ti ha mai visto ma si verrà c'è tempo è giovane che intanto si farà vado quindi non l'ho mai visto vado alla domenica sportiva mi avvertono che c'è una sorpresa per lei avvocato in collegamento da Bari abbiamo il suo assistito Antonio Cassano non l'ho mai visto adesso chissà inizia la trasmissione abbiamo in collegamento da Bari Cassano appare appaio anche ciao Claudio mi fa subito come stai stai bene come se fossimo lasciati un minuto prima per la sua ragione va bene Anna allora chiudiamo il sondaggio che voglio sapere come è andata a finire allora per quanto riguarda il sondaggio in realtà non è variato particolarmente rispetto all'aggiornamento di poco fa infatti semplicemente si è alzata un pochino la percentuale sulla difesa a 4 ecco rimangono a pari merito invece anzi arrivano a pari merito i giovani in campo gli incontristi a centrocampo mentre per quanto riguarda le ammunizioni rimaniamo sempre con un 4% quindi una percentuale bassissima decisamente ai tifosi piace che ha portato la difesa più solida a 4 in realtà Daniele è fortunato che sta votando 20 volte da casa ha comprato schede sim si è battuto tutto l'anno qui per la difesa ma non è l'unico perché veramente tantissimi telespettatori hanno sempre parlato di difesa comunque Andrea a fine puntata io direi che le cose certe sono almeno 3 che 1 se Pasqualina dovesse scrivere un libro dove racconta tutte le sue esperienze i suoi aneddoti ci sarebbe più di qualche telespettatore che lo comprerebbe subito 2 che Pasquale Luizio periodo ancora adesso anzi farebbe più che piacere e poi che di bello nell'ultimo Vicenza c'è che finalmente ha vinto e un passo alla volta adesso con testa e concentrazione riusciremo magari a portare qualche risultato in più a casa e poi di cose positive su Thomassen invece ci scrivono che sicuramente è un nordico in tutti i sensi quindi dà il giusto peso alle questioni calcistiche non come noi magari che parliamo di questione di vita o di morte e crede quindi questo telespettatore che in questo modo si possa giocare anche un pochino più serenamente perché forse è proprio anche di questo che hanno bisogno è un allenatore zen esatto potremmo ribattezzare zen e magari i nostri giocatori potrebbe servire anche un po' questo aspetto di maggiore tranquillità beh Massimo è vero però che Pasquale Luizio è tiratissimo è ancora in una forma sta meglio adesso di quando giocava era proprio fisico tutto sotto contro allenatore della primavera della Juve Stabia probabilmente in campo gioca le partitine posso dire una piccolissima curiosità Pasquale Luizio è di Sora terra di fenomeni perché è la stessa città di Vittorio De Sica ah beh che non era napoletano napoletano ma era appunto di quella zona tra Caserta e Frosinone che a quei tempi si chiamava terra di lavoro e Sora era il capoluogo ah sì va bene guarda ci salutiamo con un gol di Pasquale Luizio del Toro di Sora che fa sempre bene e che è stato un po' il filo conduttore di questa bella serata grazie ai nostri ospiti grazie a Massimo Briaschi Claudio Pasqualin sì grazie un attimo vedrai il cachet per la prossima volta vorrei forse voglio guadagnare almeno quanto Fai il libro che ci ha dato la cosa giusta grazie Dimitri Canello Triveneto Gol e grazie Antonio Di Lorenzo grazie a voi grazie a voi Anna Giovi ci vediamo alla prossima ci vediamo presto finito uno a uno tra Sassuolo e Torino occhio giovedì alla pergolettese giovedì con Anna a diretta bianco rossa e anche con Giovi probabilmente assolutamente ah sì dal città di di Crema direttamente nello stadio di Crema va bene ciao a tutti e grazie per essere stati con noi buona serata Belluscio Assicurazioni è sempre la risposta giusta sui nostri social tutte le novità sul mondo assicurativo una facile connessione con i nostri clienti per un'agenzia sempre più smart dalla tua prima cameretta alla sua prima cameretta Colorificio BBM è sempre al tuo fianco dal 1976